e ritirare la testera arrivederci arrivederci ciao e benvenuto sul canale in 3 con 8 disabilità on the road finalmente marco ci ha chiamato e ci ha detto che il nostro camper è arrivato quindi io e angela purtroppo infortunata perché è caduta in bicicletta e si è frantomata un braccio ahimè tutto un po massacrato andiamo a vedere il nostro il nostro 8 il nostro camper il camper 8 perché è arrivato oggi siamo entusiasti a mille potrebbe essere quello là guardate dovrebbe essere quello lì quasi già in fase di allestimento io nel frattempo nel frugone o tanto materiale da dover far montare glielo portiamo andiamo a fare le giuste firme per l'intestazione di metri a colazione e poi si andrà a vedere un pochettino il nostro mezzo intanto ciao da me e angela il piccolo simone è a scuola di salute comunque a presto e arrivederci ciao